Buon pomeriggio cari ragazzi e studentesse, siamo qui quindi per la seconda conferenza di oggi, sempre all'interno delle conferenze di bilancio di genere. Siamo molto contenti perché come vedete ogni giovedì o venerdì esistono quindi tematiche diverse, vediamo il problema del bilancio di genere sempre con occhi diversi, con gli occhi di chi comunque insegna e lavora in realtà diverse, sono quelle che poi alla fine componendosi costituiscono la comunità in cui viviamo, in cui poi anche voi oltre a vivere lavorerete. Quindi è veramente molto importante capire come, così come abbiamo seguito la professoressa Militello per il mondo della fisica, impareremo come il mondo dell'informatica che è decisamente più giovane rispetto al mondo della fisica, quanto c'è di bilancio di genere e quanto ancora, come dicevamo poco fa, siamo nel guado. Io mi auguro in questo caso che si possa essere un po' più ottimisti e per questo abbiamo invitato e per questo la ringraziamo Sabrina Mantaci che ci parlerà proprio di questa informatica come sostantivo femminile. Io già vi preannunzio che già da alcuni seminari e anche alcune letture ho scoperto che donna nel mondo dell'informatica è veramente un valore aggiunto. Sarà perché siamo forse un po' più istintive, sarà perché siamo un po' come dire più creative nell'ambito di alcuni settori e quindi spero proprio che Sabrina ci confermerà questo sentire comune. Grazie ancora e a te la parola Sabrina. Grazie, ho già la parola sì. Grazie Giuseppina, ringrazio sia te che la professoressa Uteri per avermi invitato e darmi l'occasione di parlare dell'informatica al femminile. Questo perché parliamo di informatica? Perché purtroppo dobbiamo essere pessimisti perché nel campo dell'informatica il divario di genere è particolarmente rilevante e quindi farò vedere un po' che cosa è successo nella storia dell'informatica. Il fatto che per ora ci sia un divario di genere non è una cosa che c'è sempre stata, che anticamente la cosa era esattamente al contrario e che quindi dobbiamo cercare di recuperare la femminilità all'interno del campo dell'informatica. Ho preso questo titolo proprio dalla definizione del dizionario di informatica, la prima cosa che si legge è sostantivo femminile. Mi sono detta forse questa femminilità deve essere recuperata da parte delle donne. E perché c'è questo divario di genere? Perché in realtà si sono creati negli anni degli stereotipi molto forti. Infatti se io chiedessi a ciascuno di voi come si immagina che sia una persona che si occupa di informatica, probabilmente si immagina una persona così, che sia assolutamente un uomo, che non particolarmente è attraente, con gli occhiali, probabilmente sociopatico, che non si relaziona alle altre persone, a cui piace stare da solo, in un semi interrato a programmare. Chiede a chi ciascuno di voi, se conosce questa persona, sì la conoscete perché è il magnate dell'informatica. Bill Gates è un grande imprenditore, non propriamente un'informatica, anche se lui iniziò come programmatore, che è un datore di Microsoft, però incarna perfettamente lo stereotipo di genere. Invece vorrei convincervi che si può essere anche così, un informatico può essere anche bello, attraente, sexy, elegante, e soprattutto donna. Quindi molti di voi sicuramente non conoscete questa persona, invece è un'informatica particolarmente, diciamo sui generis, però sicuramente ha fatto delle scoperte importantissime nel campo delle telecomunicazioni, è assolutamente molto femmina, quindi come diceva anche Valeria, non bisogna per forza essere poco attraenti, poco attenti a tutto quello che c'è attorno alla propria persona. Chiaramente questi pregiudizi causano una preclusione, anche un'autoeliminazione da parte delle ragazze che non aderiscono a questi modelli, e quindi è importante fornire dei modelli femminili nel mondo dell'informatica, e paradossalmente questi modelli ci vengono dalla storia dell'informatica, poiché l'informatica è popolata da moltissime donne, che hanno fatto delle scoperte importantissime, di cui ancora godiamo dei benefici. E prima fra tutte, se io chiedo, ti scrisse il primo programma per un computer, nessuno potrà immaginare che è stato fatto, che questa cosa è stata fatta da una donna, una donna che addirittura visse nell'Ottocento, prima ancora che esistessero i calcolatori elettronici, così come li pensiamo noi, Ada Lovelace Byron, che era la figlia di Lord Byron, Lord George Byron, il poeta, è appassionata a studiose di matematica, anche lei figlia di una matematica, che ovviamente le incoraggiò a prendere questo tipo di studi, è allieva di Augustus de Morgan, che è stato uno dei primi studiosi del calcolo simbolico, e questo fu una cosa importantissima, perché nell'informatica c'è moltissimo calcolo simbolico. Ovviamente lei fu incoraggiata, è importante che lui fu incoraggiata dalla mamma a fare informatica, anche in contrasto con l'ex marito che la lasciò dopo un paio di anni, quindi non voleva che intraprendesse come le altre ragazze degli studi umanistici, quindi le incoraggia a fare matematica, e lei si trova in questa situazione in cui a una cena incontra Sir Charles Babbage, che era un matematico e filosofo britannico, inventore di una macchina differenziale, quello era il periodo della rivoluzione industriale, quindi si cominciavano a fare macchine per tutto, lui cerca di costruire una macchina che serve proprio a calcolare, ispirandoci un po' ai telai Jacquard, che utilizzavano le schede perforate per costruire dei tessuti con particolari disegni, questi disegni venivano programmati all'interno delle schede perforate, e quindi Ada si appassiona a questo tipo di macchina e pensa alla possibilità di programmare questa macchina per risolvere problemi di tipo diverso. La sua fortuna, fu che Babbage le chiede di tradurre dal francese un manuale che aveva scritto su questa macchina analitica, prendendo note su quello che Babbage gli aveva spiegato, e nel momento in cui fa la traduzione, introduce anche delle note all'interno di questa traduzione, in particolare l'ultima note che ovviamente introducevano delle idee innovative, e fra queste la nota G è conosciuta come il primo algoritmo ricorsivo per il calcolo dei numeri di Bernoulli, che si trova esattamente questo qua, una cosa geniale perché per la prima volta pensa a una costruzione che parte dal basso, quindi che costruisce i numeri di Bernoulli per ogni n, indipendentemente dal valore di n, prima si calcolavano le cose sui numeri, non sui simboli. Ovviamente nessun riconoscimento venne dato ad Ada, lei stessa si nascondeva dietro le sue iniziali nel momento in cui scriveva queste cose, e solamente negli anni 70 del 900 il nome Ada venne dato a un linguaggio di programmazione, ultimamente si celebra l'Ada Loveless Day e l'Ada Loveless Award alle donne che hanno particolari mediti scientifici in informatica. Ma diciamo una frase molto significativa che viene da lei è questa, la matematica è il linguaggio delle relazioni invisibili tra le cose, ma per usare e applicare quella lingua dobbiamo essere in grado di apprezzare, sentire, cogliere, osservare l'inconscio. Anche l'immaginazione mostra ciò che vi è oltri sensi, dunque l'immaginazione è o deve essere coltivata in particolare dagli scienziati e da tutti i colori che vogliono entrare nei mondi intorno a noi. Ovviamente in questa frase ci sta molta, un invito, diciamo ci colgo un invito alle donne a occuparsi di matematica, ovviamente in quel momento si parlava esclusivamente di matematica, l'informatica non è lontana da questa idea, perché per fare, per occuparsi di questa disciplina scientifica occorre una grandissima creatività, una grandissima senso di immaginazione. Inoltre, vabbè, ci sono altri personaggi interessanti, per esempio John Clark, che era una matematica laureata a Londra, fra l'altro lei non poteva accedere alla laurea magistrale proprio perché era una donna, però come supervisione accademico decide di inserirla nei lavori del Bleceri Park. Il Bleceri Park è dove c'era il gruppo di Turing che lavorava alla decriptazione del codice Enigma e lei entra a far parte di questo team di Alan Turing che riuscirono effettivamente a decriptare il codice con cui i tedeschi diciamo comunicavano durante la guerra e fra l'altro lei inventa un metodo criptografico per cercare di accelerare l'individuazione delle crevi criptografiche che venivano modificate ogni giorno dai tedeschi, quindi ci voleva molta velocità nello svolgere questo compito. Chiaramente diciamo appare come un personaggio secondario, molta amica di Turing, fra l'altro lo stesso Alan Turing pur essendo omosessuale le chiese di sposarla, ma ovviamente questo matrimonio non avvenne mai, ma lei rimase sempre molto amica di Turing fino a quando lui cessò di vivere come probabilmente sapete a causa, suicidandosi perché era stato accusato proprio di omosessualità perché era a quei tempi più reato in Inghilterra. Invece la stessa cosa avviene in America, in America costruiscono un altro calcolatore elettronico, in Inghilterra era stato costruito il Colossus che era un calcolatore elettronico che è ben utilizzato proprio da quel team ma che venne poi distrutto alla fine della guerra, invece in America costruiscono questo Harvard Mark I che è questa macchina che vedete nella figura che viene installata ad Harvard e ovviamente una volta che si aveva la macchina si aveva bisogno di qualcuno che ne piegasse, ne comprendesse il funzionamento. Quindi c'era questa donna Grace Hopper che era una matematica in New Yorkese fra le prime donne al mondo a conseguire un dottorato che era una bravissima matematica però inizia ad insegnare a scuola ma dopo qualche anno si annoia di questo lavoro cerca di arruolarsi in marina ma viene scartata per vari motivi la prima volta perché era troppo grande perché aveva 34 anni la seconda volta perché era troppo leggera la terza volta perché era troppo bassa insomma alla fine viene arruolata come volontaria per l'emergenza e quindi viene assegnata a questo a lavorare sul Mark I e quindi le danno il compito di comprendere questo calcolatore di scrivere un manuale quindi lei scrive il primo libro di programmazione che è questo manuale che spiega il controllo del calcolatore e diciamo il suo approccio che aveva per la didattica cosa che è una propensione tipica delle donne quella di insegnare è una caratteristica importantissima per chi vuole fare programmazione perché la programmazione si tratta di spiegare al computer cosa fare passo passo e questo è assolutamente nelle corde di qualunque qualunque donna a cui piaccia insegnare quindi questi due aspetti si completano a vicenda inoltre diciamo il motivo per cui Grace Hopper è particolarmente famosa è perché l'inventrice di quella che fu praticamente la rivoluzione copernicana dell'informatica perché fu la prima a inventare il invento il primo compilatore Flomatic è quindi il primo linguaggio di programmazione ad alto livello che cos'è per i non esperti un compilatore è un software che permette di tradurre un linguaggio di programmazione che segue certe regole grammaticali nel linguaggio della macchina il linguaggio della macchina ovviamente è un linguaggio molto complicato perché segue la logica della macchina è fatto di circuiti quindi è fatto di 0 1 e quindi è molto difficile programmare in linguaggio macchina introdurre un linguaggio di programmazione che sia molto vicino al modo di pensare dell'uomo e avere quindi un altro strumento che si occupa della traduzione e chiaramente apre il mondo dell'informatica il mondo della programmazione a moltissima più gente rispetto a quelle che sapevano programmare in linguaggio macchina e fra l'altro lei è a capo del team che si occupa della creazione del compilatore COBOL il COBOL è un linguaggio che attualmente è utilizzato nelle banche in particolare è ancora applicazione dopo tantissimi anni nel nel bancomat il bancomat è scritto in COBOL è anche protagonista di una aneddoto divertente crea questo inventa questa parola bug come diciamo per indicare un malfunzionamento del programma proprio perché in queste macchine malfunzionamenti del programma potevano essere causati dagli insetti bug significa insetti in effetti una volta che è successa una cosa del genere lei catturò quest'insetto che si era inserito in mezzo ai circuiti e che aveva fatto un cortocircuito lo incolla come vedete qua in questa figura nel suo diario di bordo e scrive il primo vero caso di bug trovato quindi la parola bug quando diciamo che c'è un bug in un programma viene esattamente da questo episodio e la parola debug significa scovare e correggere un errore in un programma inventa le routine le routine sono importantissime perché sono i sottoprogrammi che possono essere utilizzati da programmi diversi quindi supponiamo che dobbiamo fare un algoritmo di ordinamento che può servire in diverse situazioni quindi si inventano queste librerie che sono insieme di sottoprogrammi che possono essere utili in varie occasioni che quindi uno può utilizzare come se fossero delle semplici funzioni senza bisogno di riprogrammare ogni volta Grace si diciamo nell'ultima parte della sua vita lei in qualche modo resta sempre nella Marina Milita anche dopo la pensione e nell'ultima parte della sua vita diventa ammiraglio della Marina Militare Americana e comincia a fare delle delle divulgazioni in giro per il mondo comincia ci sono diversi video potete trovare su YouTube delle delle sue conferenze veramente divertenti e però lei diciamo che qua riporta una frase di Grace Murray Hopper dice che che fra le sue le sue più grandi le cose di cui leva più orgogliosa sono i giovani che ha formato negli anni più della scrittura del primo compilatore e quindi anche qua diciamo la femminilità l'aspetto femminile della di questa donna che è stata così forte che ha fatto delle scoperte così importanti diciamo viene fuori anche dal fatto di volere trasmettere queste sue competenze queste sue conoscenze agli altri quindi anche un altro incoraggiamento per le ragazze che vogliono fare informatica è la donna bellissima che abbiamo visto all'inizio del talk è effettivamente una di hollywoodiana non per modo di dire ma è una è di Lamar che nasce da una fabbrica ebraica viennese comincia a studiare ingegneria ma abbandona gli studi perché vuole diventare un'attrice intrapende alla carriera cinematografica nasce nel 2014 a un certo punto sposa un commerciante d'armi filo nazista quindi vientra a contatto con queste persone che si occupavano di sistemi di controllo radio nelle navi negli aerei nei filuri radiocomandati però nel 37 si trasferisce fortunatamente per lei negli Stati Uniti essendo ebrea fa bene così e diventa una star di Hollywood ci sono diversi film con importanti attori di quel periodo fra l'altro lei è famosa perché fu fra le prime a apparire nuda in un film e però aveva questo pallino dell'ingegneria e quindi si fa regalare da un produttore un piccolo laboratorio da hobbysta e insieme a un suo amico che era il compositore George Antail che era un musicista di Hollywood pure che faceva colonne sonore per film inventa la tecnica del frequency hopping spread spectrum che cos'è questa tecnica? Praticamente i tedeschi riuscivano a deviare i siluri radiocomandati proprio perché riuscivano a intercettare le frequenze e interferire con queste frequenze facendo deviare questi circuiti invece questa invenzione permetteva di modificare la frequenza in maniera tale che non potesse essere intercettata e compresa da parte di un intercettatore esterno quindi che cosa fa? Brevetta questa invenzione ovviamente non viene presa sul serio perché lei è un'attrice di Hollywood non viene presa sul serio dall'esercito americano a cui lei propone questa scoperta quindi cade nel dimenticatoio ripresa poi vent'anni dopo durante la crisi missilistica di Cuba e viene usato come sistema di comunicazione di bordo delle navi americane quando già il brevetta era scaduto quindi lei non acquisisce nessun merito nessun introito da questa utilizzazione ma quello che è più importante è che il frequency hopping spread spectrum è la tecnica che oggi è utilizzata nella trasmissione di dati tramite bluetooth e wifi quindi se abbiamo il bluetooth e il wifi lo dobbiamo a questa bellissima intelligentissima donna ancora altre storie ci sono sempre il periodo della guerra un altro calcolatore che questa volta apparteneva all'esercito e non alla marina viene messo nell'università di Pennsylvania vengono reclutate queste donne tante donne tra cui queste insomma quelle che emersero fra le altre per programmare questo computer tra l'altro neanche glielo danno glielo fanno vedere e gli danno solamente degli schemi quindi loro programmavano conoscendo solamente lo schema della macchina vabbè venivano utilizzati per studi balistici quindi loro provano che i calcoli che venivano dallo Salamos erano sbagliati quindi utilizzando i loro programmi provano che erano sbagliati quindi cambiano completamente il diciamo l'approccio a questo tipo di a questo tipo di calcoli che diciamo ci si rende conto che c'è bisogno dei calcolatori per per risolgere questi calcoli e anche loro sono protagoniste di una diciamo riconoscenza nel confronto delle donne non c'è mai sono protagonisti di una storia triste perché a un certo punto finita la guerra l'esercito vuole vuole presentare queste questa macchina al mondo della stampa quindi indicano una conferenza stampa in questa conferenza stampa ci deve essere un c'è una dimostrazione ci deve essere una dimostrazione di questa di come funziona questa macchina però insomma c'è un programma che alla fine si scopre che non non funziona quindi il giorno prima c'è questa suspense per cui vanno a letto disperati pensando vabbè faremo una figuraccia mentre invece durante la notte Betty Snyder riesce a capire dove si trova l'errore lo sistema e quindi grandissimo successo grossi investimenti vengono promessi grossi investimenti economici sulla ricerca in computer science escono giornali esce il New York Times con parole esaltanti nei confronti di questi calcolatori dei due ingegneri che avevano fatto la macchina neanche una parola sulle programmatrici che avevano programmato fra l'altro non vengono neanche invitate alla alla serata di gala dopo la conferenza stampa e l'ultima diciamo l'ultima rappresentante importantissima dell'informatica al femminile è Margaret Hamilton che è tra le protagoniste del primo sbarco sulla luna lei era la responsabile del software che serviva per le navicelle che dovevano atterrare sulla luna e la navicella che doveva atterrare sulla luna in particolare vabbè poi fu coinvolta anche nei progetti relativi al lancio della stazione spaziale Skylab e c'è anche qua un episodio che dimostra che era effettivamente un'ottima programmatrice perché quando la navicella stava per atterrare sulla luna scattò un allarme che indicava un suo graccadico di dati sul computer di bordo però il programma era stato fatto in modo da chiudere tutti i processi che non erano assolutamente necessari questo perché è successo che uno switch fece entrare dei fece attivare dei processi che non erano in quel momento necessari però questi processi vennero spenti automaticamente dal programma stesso quindi i processi a priorità che erano a priorità in quel momento che erano quelli per l'atterraggio sulla luna vennero diciamo sono gli unici che restarono attivi e grazie a questo anche la missione sulla luna fu salva quindi abbiamo infiniti esempi diciamo queste sono le punte di diamante dell'informatica al femminile ne ho raccontate solamente alcune però in tutto questo moltissime donne lavoravano nell'informatica questo è un grafico che dice che fa vedere come nelle diverse discipline scuola medica scuola di legge scuola di fisica e computer science come è stata la crescita come vedete diciamo tra gli anni 70 agli anni 60 agli anni 80 c'è una grandissima crescita di impegno delle donne in queste discipline l'unica che ha un'inversione negli anni 80 è proprio l'informatica l'informatica scende 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 fino ad arrivare sotto il 20% sotto il 20% è purtroppo il dato che abbiamo che abbiamo per ora cioè quello diciamo da questo plateau non ci siamo più mossi non siamo più riusciti a salire questa è una grande preoccupazione vedremo perché per il mondo dell'informatica ma perché inizia questo declino beh probabilmente perché ci si rende conto mentre perché c'erano tutte queste donne nell'informatica probabilmente perché si pensava che fosse un lavoro per donne fosse un lavoro da segreteria quasi mentre invece quello che era l'hardware diciamo veniva assegnato agli ingegneri che generalmente erano maschi quindi si è creato questo dualismo l'hardware per gli uomini il software per le donne però a un certo punto ci si rende conto tutto sommato nell'hardware non c'è niente da fare il modello di von Neumann che diciamo rimase quello diciamo i computer possono diventare più potenti ma tutto sommato non c'è grandissima cosa da fare all'interno non c'è stata una grande evoluzione all'interno dell'hardware la grande evoluzione dell'informatica si ha grazie al software tutto tutto quello che facciamo ora dall'intelligenza artificiale dal Google la rete tutte queste cose sono dei prodotti software quindi gli uomini si rendono diciamo aspetto un momento ci riprendiamo questo 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 skill e negli anni 80 succede questo escono i primi personal computer cioè i computer diventano veramente la diciamo una cosa per tutti e queste sono le orribili pubblicità che ci sono per i personal computer che sono quello che oggi diremmo not politically correct allora probabilmente non c'era questa sensibilità quindi chiaramente intanto i computer si associano all'idea del videogioco generalmente quelli che coloro che si interessavano i videogiochi erano i ragazzini quindi anche qua dice comprate un computer perché dovete compiere un videogame potete comprare un computer per lo stesso prezzo questa qua terribile dice il commodore fa del software per ogni membro della famiglia quindi qua ci mette la moglie persino per la moglie c'era un software almost diciamo appena al di sopra del cane che non l'unico che non accede al al commodore o quest'altra pubblicità della apple in cui l'uomo davanti lavora al computer c'è i suoi grafici e dietro c'è la donna in cucina che lo guarda ma anche per esempio il film questo è il film War Games in cui il ragazzino è uno smanettone che entra nel diciamo riesce a entrare nel computer della NASA riesce quasi a scatenare una guerra nucleare perché si introduce in una cosa pensando che sia un gioco però poi riesce lui il genietto che riesce a ingannare il computer facendogli capire che ci sono dei giochi in cui non si può vincere lo sfida alle partite attrice però come vedete anche qua il ragazzino è davanti al computer la ragazzina sua amica si lo aiuta ma sta un po' un passo indietro diciamo queste queste immagini anche se fanno un po' ridere fanno un po' sorridere però chiaramente sono state molto importanti a creare quello stereotipo di genere che in qualche modo abbiamo tutti per ora è chiaramente di uno stereotipo si tratta altrimenti non ci sarebbero state tutte queste donne nel passato dell'informatica ho lasciato un po' di filmografia poi chi se la vuole vedere allora che cosa in che situazione siamo oggi a Palermo abbiamo cominciato a guardare questi dati sulla sulla presenza di ragazze nell'informatica e negli ultimi anni oscilla tra il 10 e il 15% in particolare quest'anno abbiamo 150 nuovi iscritti di cui solo 22 studentesse che è il 14,6 e questa cosa ci viene dal diciamo questa curiosità ci è venuta perché siamo entrati nel piano lauree scientifiche è uno degli obiettivi del piano lauree scientifiche è proprio quello di colmare il gap di genere che nel caso dell'informatica è veramente ampio quindi questo è un problema che ci poniamo a vari livelli ci sono degli altri rapporti ho per esempio trovato questo della Cafoscari questo è stato commissionato dalla Regione Veneto all'Università di Cafoscari e anche qua i dati sono più o meno gli stessi circa il 2% delle ragazze sceglie questi studi Valeria aveva dato una stima approssimativamente la stessa circa il 10% dei ragazzi scelgono studi di tipo informatico c'è questo studio della Commissione Europea forse era lo stesso che citava Valeria perché trovo dei dati abbastanza simili che osserva varie cose ci sono 4 volte più uomini che donne nell'ICT nell'Information and Communication Technology la quota degli uomini nel settore è 3,1 volte maggiore della quota delle donne l'altra cosa sia una perdita annuale di produttività perché donne nel studio di CIT diventano inattive quindi lasciano il lavoro e c'è un danno di circa 16,2 miliardi di euro quindi il fatto di non avere donne nell'informatica è un grosso danno per quanto riguarda l'economia globale e quest'altra cosa che diceva anche Valeria le start up di proprietà femminile sono in genere molto hanno un grande successo invece si registra una diminuzione della partecipazione a queste a queste start up chiaramente si osservano dei forti pregiudizi inconsci su quello che è appropriato sulle capacità di ciascun genere e quindi si istituisce un piano di azione per l'istruzione digitale quindi si cerca di partire dal basso partire dal livello dell'istruzione per portare le ragazze a occuparsi di CIT questa cosa la commissaria Maria Gabriel era una una politica bulgara e in effetti in Bulgaria è uno dei posti in cui si ha la maggiore incidenza di donne presenti nell'ICT e ci sono altri studi in questo European Data Journalism Network in cui si evidenzia il fatto che nei prossimi anni ci sarà una grandissima esplosione di lavoro nel campo dell'ICT e che non ci saranno abbastanza esperti nel settore sia uomini che donne addirittura si arriverà a colmare cifre bassissime tipo il 30% dei posti che sono richiesti quindi è importante che ci si prepari a questo a questo tipo di sviluppo e questa cosa che cosa comporta comporta che questi posti di lavoro non solo sono sicuri diciamo chiunque si iscrive in informatica trova immediatamente lavoro ma sono dei posti pagati molto meglio è quindi importante che le donne chiaramente se hanno una propensione per un amore per le materie scientifiche che consiglino di fare una carriera nell'informatica perché questo coprirebbe questo gap economico Valeria citava la differenza fra gli stipendi che ci sono nel diciamo per quanto riguarda l'occupazione di uomini e donne si potrebbe colmare questa cosa però ovviamente ci sono dei grandissimi problemi ci sono stessi dati due donne ogni dieci posti di lavoro vado avanti quindi la quota di donne impegnate come esperti informatica e delle comunicazioni è tipo del 16,7% dato che aumenta se noi consideriamo persone che sono più tecnici dell'informatica però persone ad alto livello quindi specializzate persone che hanno una laurea nel settore sono pochissime questo schema ci rappresenta l'Europa con diciamo dove si evidenzia che nell'Europa centrale compresa l'Italia è il posto dove ci sono meno ragazze percentuali bassissime di ragazze che si occupano di informatica un po' meglio va nei paesi scandinavi e nel nel Regno Unito molto meglio va invece in questi paesi che non lo diremmo mai quindi Bulgaria Romania Grecia e Turchia dove ci sono delle politiche che tendono a introdurre le ragazze nel nel settore ICT diciamo la cosa parte da lontano perché se si chiede alle ragazze che cosa vogliono fare quelle che vogliono lavorare nel settore delle tecnologie informatiche sono solo lo 0,4% contro il 5% dei ragazzi quindi già il gap si vede ancora prima di fare la scelta universitaria di questo ne ho già parlato diciamo si avrebbe un grandissimo un più alto livello di reddito quindi può essere uno strumento per ridurre il divario retributivo di genere non solo questo sarebbe un grandissimo vantaggio per per l'economia perché aumenterebbe il PIL sul lungo periodo quindi 820 miliardi se riuscissimo a coprire tutti questi posti di lavoro che l'economia ICT propone allora sfide da affrontare intanto meno dell'1% delle ragazze di 15 anni hanno interesse per una carriera nel settore ICT quindi bisogna lavorarci assolutamente prima STEM sta per Science Technology Engineering e Mathematics in cui rientra chiaramente anche l'informatica è un settore in rapida crescita ma molte donne non lo scelgono probabilmente questo perché questa grande carenza crea dei lavori che sono molto impegnativi che impegnano molto in termini di ora e chiaramente questo va a cozzare contro le responsabilità familiari che diciamo senza sono sempre sulle spalle delle donne e se le donne pensano di non poter fare fronte a questo non riesce a conciliare queste due cose può uscire da questo settore addirittura non entrarne affatto quindi bisogna lavorare su questo aspetto anche aumentare la flessibilità del lavoro può aumentare le tensioni per le donne ricadute negative tra lavoro e vita privata e il fatto che generalmente le donne si occupano dell'assistenza della casa e dei figli hanno molto meno tempo di investire in formazione continua quindi in apprendimento permanente che è importante nel DCT perché diciamo questo tipo di lavoro è sempre in evoluzione bisogna stare al passo con i tempi qua cito questo altro rapporto di cui metto il link diciamo è uno studio sulle donne dell'informatica lo stato attuale considera lo stato attuale delle cose per le ragazze nell'informatica le principali barriere all'aumento della partecipazione delle ragazze in questi campi è promettentica paratiche per affrontare queste barriere questo lo lascio con me allora cosa si sta cercando di fare in questo campo intanto bisogna guardare quali sono le questioni culturali che impediscono alle ragazze di scegliere questo questo tipo di questo tipo di carriera di studi e di carriera intanto dobbiamo guardare chi ha accesso ai computer in tenere età di solito sono i ragazzini sono privilegiati in questo senso nel senso che loro sono sempre appassionati probabilmente sono più appassionati di videogiochi proprio per questo i genitori più facilmente comprano un computer ai ragazzi quindi i ragazzi hanno un computer nelle loro stanze e quindi diventano più familiari con lo strumento l'informatica permette di avere un impatto sulla vita reale perché questa è una cosa che le ragazze si chiedono le ragazze vogliono quando vengono intervistate vogliono fare un lavoro che possa essere utile per gli altri possa essere utile per la cura della società e non vedono l'informatica come una cosa che gli permette di fare questo quindi scelgono scelgono diversamente bisogna pensare alle preferenze sull'equilibrio tra lavoro vita privata e qualità della vita la cultura che in genere è sempre scoraggiante per le donne e per i principianti quindi quelli che diciamo in genere le donne si trovano da grandi ad essere principianti sull'informatica perché non non l'hanno coltivata in età più piccola e molte persone non sanno cosa sia effettivamente l'informatica quindi che che cosa si è fatto per esempio all'università di Berkeley un lavoro che hanno fatto hanno creato questo corso un corso di informatica di fondamenti di informatica denominato The Beauty and the Joy of Computing proponendo la programmazione come un gioco di abilità come gli scacchi però senza l'aspetto competitivo e fare vedere a che cosa serve l'informatica al di là dell'informatica stessa la programmazione stessa che sembra uno strumento sterile e questo corso ha incrementato moltissimo il numero delle ragazze fino ad avere classi con il 50% di ragazze è un'altra esperienza che è stato fatto in un altro college sempre in California è un corso simile in cui hanno agito su due fronti il primo fronte è quello di focalizzarsi principalmente sulla capacità creativa di risolvere i problemi quindi quella che si chiama pensiero computazionale dimostrando così l'ampiezza del campo di studi e l'intività all'interno della società le studentesse e i studenti sono stati divisi in base al proprio background quindi in questo modo non si aveva una timidezza nei confronti degli studenti che ne sapevano di più addirittura la classe di quelli che non avevano il background viene chiamata golden class mentre la classe con quelli con background è stata chiamata la black class e in questo modo anche in questo caso la percentuale delle ragazze che si sono appassionate all'informatica è cresciuto notevolmente dal 10 al 40% dal 2007 al 2011 ci sono varie iniziative per le ragazze di cui qua ho messo i link chi può essere interessato sono varie le prime tre sono specificamente per le ragazze le altre due sono diciamo delle iniziative per approcciarsi al mondo dell'informatica senza avere particolare background questo è The Beauty and The Joy of Computing c'è tutto un corso c'è anche insegnano pure gli insegnanti a fare i corsi e nelle mie conclusioni diciamo facendo una somma di quello che ho detto ho detto che nella storia ci sono state numerose donne che hanno contribuito a creare le fondamenta dell'informatica moderna fino agli anni 80 moltissime donne si sono occupate di informatica dagli anni 80 in poi questo campo diventa tabù per le donne si crea un pregiudizio per cui le donne non sono portate all'informatica non aderiscono a un certo modello quindi questo crea una esclusione che si manifesta sin dai primi anni di vita i ragazzi si approcciano all'informatica più facilmente per vari motivi sono incoraggiati dai genitori sono dei insegnanti hanno passione per i videogiochi hanno maggiore possibilità probabilità di possedere un computer hanno una maggiore autostima quindi propensione ad approcciare autonomamente i calcolatori le ragazze pensano che l'informatica sia arida non sia creativa e quindi molto lontana dall'utilità nel dare aiuto alla società però d'altra parte abbiamo visto che il rapido sviluppo delle tecnologie informatiche fa sì che stanno venendo fuori moltissimi lavori e moltissime richieste di aspetti informatici nel settore ICT e che quindi è una sfida che le donne devono prendere negli anni negli anni futuri e quindi scusate affinché le ragazze recuperano un'autostima nella loro abilità di programmazione bisogna introdurre in informatica entrare a contatto con l'informatica molto prima rispetto al momento della scelta universitaria è quindi opportuno che ci si impegni a introdurre sin dalla scuola primaria degli studi informatica attualmente l'informatica praticamente a scuola non si studia a meno che uno non si scriva a un istituto tecnico industriale neanche nello scientifico si fa informatica e di questo bisogna evidenziarne gli aspetti piacevoli e stimolanti ho concluso grazie per l'attenzione grazie a te Sabrina io sono arrivato un po' in ritardo perché ho avuto problemi di computer e problemi familiari grazie davvero molto interessante non sapevo di questo passato femminile per l'informatica a cominciare dalla figlia di Byron io sono una letterata quindi diciamo che la figlia di Byron avesse queste competenze mi fa veramente molto piacere e mi pare anche molto interessante quello che hai detto tu che fino a un certo punto le donne hanno avuto molto spazio probabilmente perché la parte soft era relegata all'idea della segretaria quando poi si è capito invece che fondamentale a questo punto c'è stato un avanzamento maschile ci riprendiamo ci riprendiamo esatto il potere facevo un po' due calcoli ci sono qua i commenti dei ragazzi c'è per esempio l'ultimo te lo leggo velocemente così ci aggiungo quello che volevo dire io poi tu rispondi io non credo si tratti di non voler lavorare in questi settori semplicemente perché non si riesce a conciliare lavoro e lavoro di cura credo che si tratti di retaggi culturali che non ci siamo lasciati ancora alle spalle di pregiudizi stereotipi per cui le bambine vengono cresciute lontano da questi mondi mentre i maschi eccetera eccetera però io credo che almeno se vedo le giovani collaboratrici le giovani sono ti sentiamo male Laura è bloccata io non so come volesse completare la frase Laura però ci sono anche altri commenti vediamo se Laura riesce a riprendere la parola sono assolutamente convinta che è giusto quello che è stato detto nel commento è che gli aspetti sono tanti ovviamente ci sono tante sfaccettature io non sono un'esperta sociologa ho un poco studiato il fenomeno perché sono nell'informatica e mi accorgo di questo di queste poche ragazze che arrivano a informatica e mi chiedo perché probabilmente cosa succede poi nel mondo del lavoro immagino che che il gli aspetti personali sono molto importanti diciamo sono molto determinanti a scoraggiare però dico possono essere tanti chiaramente per ciascuno può essere diverso però sono effettivamente sono tanti aspetti dicevi Giuseppina ci sono sì ci sono altre domande probabilmente il divario di genere si riduce passando da STEM a STEAM dove A sta per arte e design e poi qualcuno che ovviamente considera l'informatica come detto in premessa associata la donna brutta vista come nerd quindi insomma siamo ancora lì dentro gli stereotipi li dobbiamo cambiare tutti insieme non possiamo pensare e l'idea della professoressa Oteri è proprio che più ne parliamo più riusciamo a superare lo stereotipo perché dobbiamo un po' ironizzarlo se lo ironizziamo a quel punto puff comincerà a scomparire però insomma ci serve veramente la forza culturale delle ragazze e dei ragazzi ma veramente la loro voglia di non sentirsi nerd solo perché sono brave in informatica no tra l'altro è appunto pensare che non ha impatto nella società è sbagliato ed è una cosa che però dobbiamo comunicare noi insegnanti cioè se noi dicessimo che il sequenziamento genomico del coronavirus è stato ottenuto grazie degli algoritmi che sono stati fatti dai scienziati in informatica probabilmente questa cosa è più accattivante per le ragazze che non pensare di andare a fare il programmatore per non so per la telecom sì ecco aprire proprio presentare questo ampissimo ventaglio dentro cui poi l'informatica si sta alla fine collocando perché ovviamente una nota anche un po' un po' personale ecco in una famiglia in cui magari ci sono gli ingegneri elettronici in un'altra generazione si pensava che l'informatico fosse molto più come dire vicino al mondo dell'applicativo rispetto all'elettronico che invece faceva veramente funzionare i computer ecco dal transistor in poi ecco il mondo era pieno di elettronica adesso effettivamente l'informatico come detto tu sia che sia bioinformatico o anche spalmato su altri campi è al centro del nostro universo fa a volte anche un po' paura questa cosa ecco che dipendiamo da un linguaggio che non è quello come dire trasferito dalla biosfera dalla natura dal linguaggio degli uomini o degli animali però penso proprio che l'informatica ormai è entrata nella nostra vita e non può essere entrata solo al femminile o al maschile deve poter entrare proprio come assolutamente bilancio poi ognuno all'interno di questa informatica come dici tu si orienta verso ambiti che gli interessano di più perché io penso che per i ragazzi la cosa più importante è ritrovarsi all'interno di quello che sono i suoi confini vocazionali insomma devono lavorare 40 anni ma divertendosi sia che lavorino per l'università per l'industria per l'impresa quindi devono assolutamente sperimentare durante il tempo dell'università qual è l'orientamento che più si avvicina poi anche all'esigenza lavorativa ma cercare assolutamente la loro felicità e il loro benessere attraverso come dire il mondo lavorativo per essere poi veramente coerentemente inseriti nel loro tempo assolutamente tra l'altro volevo aggiungere che l'informatica ci investirà tutti in qualunque campo noi vogliamo occuparci sia campo giuridico che sia il campo medico moltissimo quindi diciamo è una cosa di cui non possiamo fare più a meno quindi quando dicevo bisogna introdurre l'informatica sin dai primi anni di studio questo non serve solamente per diventare informatico ma per diventare un cittadino quindi una cittadinanza digitale dobbiamo essere a nostro agio con lo strumento informatico e con i concetti dell'informatica ottimo siamo sono assolutamente d'accordo bene se non ci sono altre domande la prorettrice dà la chiusura possiamo chiudere grazie 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 a voi comunque dare la rivederci alla prossima alla prossima puntata quindi noi ci rivediamo il 5 di febbraio alle ore 17 con Alessandra Dino violenza di genere e femminicidio e a seguire Nesla Elsa Khan su religione e genere due conferenze e due argomenti completamente diversi ma vi aspettiamo in tanti e tantissime proprio per ascoltare questi due argomenti per cui ci vediamo il prossimo il prossimo venerdì sempre grazie al magnifico ingegnere Carmelo Belfiore e alla nostra bravissima relatrice arrivederci grazie a voi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.